Si parla delle cose di cui non hai paura di ridere di te stesso. Sono davvero sicuro che la risata che sto ottenendo non stai ridendo necessariamente di me come se fossi uno scherzo. Stai ridendo dell'esperienza. Ti offro un'esperienza con una storia identificabile e il coraggio di dire cose che altri non hanno il coraggio di dire. Lasciati ispirare da questa esperienza. Ho due ragazzi, Harry Rashford e Joy Wells. Loro fungono da miei scrittori. E quello che fanno è prendere il mio materiale mentre lo dico. Non puoi scriverlo per me. Tipo, non mi piace la battuta lunga alla frase lunga. Deve essere in elenchi puntati. Viaggi, male, viaggi brutti. Perché i viaggi brutti mi obbligano a guidare l'automobile. Guidare bene versus male. Tutto positivo e negativo. Regola. Salgo sul palco.